Ornideppe Siamo in Saraoui! Sei in ombra! Vuoi dire Saraoui? O sei Saraoui? Fica incredibile Questa è la parola che riconosce il cazzo del rigore No, cos'è? Si ferma! Ma come cazzo fai? Ma come cazzo fai? Ma dai, ma cos'è? Ma che incredibile, fallo terribile Questo qua va avanti Gia fa una mancina in mezzo e questo qua da un mese No, ma come ho fatto? Ma come ho fatto? Droghe che con la tecnica che c'è mi sbaglio un gol così Fai schifo